Ultime ore disponibili per le risoluzioni delle comproprietà. Ci sarà tempo fino alle ore 19. In Casa Pescara si lavora su questo fronte, altrimenti bisognerà fare ricorso questa sera alle buste. Continua la trattativa del Presidente Sebastiani con il DS della Roma Walter Sabatini per gli attaccanti Matteo Politano e Gianluca Caprari. La Roma aveva offerto 700 mila euro più il presidio di un giovane, ma la società Bianca Azzurra punta ad una maggiore monetizzazione delle due metà dei cartellini. Una volta tornati a casa madre, Politano sarebbe girato in Serie A al Sassuolo, Caprari resterebbe in B, piace al Latina. Proseguono le trattative con il Genoa per la comproprietà di Antonino Ragusa, quest'anno in prestito al Vicenza. Il Presidente Genuano Preziosi mira a riscattare l'attaccante. Intanto sono state definite altre operazioni, mancano solo le firme, ma il DG Repetto ha trovato l'intesa per la cessione del gioiellino Lucas Torreira alla Sampdoria. Nelle casse del Pescara entreranno 2 milioni di euro più il 20% di una futura cessione dello stesso Torreira da parte del club blucerchiato. Il centrocampista uruguayano però resterà anche l'anno prossimo a Pescara in prestito e sarà uno dei fulcri della squadra di Massimo Oddo. Con la medesima operazione il Pescara ha inserito il cartellino del difensore Michele Fornasier che resterà così in rival adriatico. Così come resterà anche il portiere Vincenzo Fiorillo, il Pescara ha trovato l'intesa per un nuovo prestito con la Juventus che aveva risolto a suo favore la comprobietà del cartellino con la Sampdoria. Scambio di giovani invece con l'Atalanta, il Pescara ha ceduto al club orobico l'attaccante classe 97 Denis Di Rocco. In cambio arriva il centrocampista classe 95 Gianluca Barba, reduce dal positivo prestito in Lega Pro alla propria essenza. Anche un gol in stagione per lui. Sul fronte dei movimenti in uscita sempre grande fermento intorno al nome del centrocampista Birkir Bjarnason, non solo Palermo. Il presidente Sebastiani nelle ultime ore ha parlato del forte interessamento di Torino e Atalanta per l'islandese. In particolare il club bergamasco potrebbe inserire nella trattativa l'attaccante Matteo Ardemagni e il difensore giuliese Cristiano Del Grosso e versare nelle casse pescaresi una cifra che sfiora i 3 milioni di euro. Su fronte entrate si attendono sviluppi per l'ex terramano Gianluca Lapadula con cui ci sarebbe già un'intesa di massiva. Piace molto l'ex Bresciano Corbia mentre su Donnarumma, rientrato dal Teramo, c'è il pressing forte della Salernitana.